Purtroppo ieri è cominciato il quarto campionato di Serie C nazionale per il Fano e i tifosi ospiti tutta Italia vedono in che condizioni versa lo Stagio Mancini. Una situazione abbastanza degradante con la gradinata che per il secondo anno di fila addirittura è chiusa e non è utilizzabile. È stata ristrutturata la copertura della tribuna però ancora non è stata fatta la sala stampa quindi i giornalisti in disagio. Le strutture dei bagni sono veramente vecchie faticenti dell'anteguerra. Una situazione imbarazzante sia per chi viene a Fano che per gli stessi tifosi fanesi. Proponete dunque una ristrutturazione o un nuovo stadio? Allora anche qui il presidente Gabellini proprio questi giorni è tornato sull'argomento dicendo che lui vuol fare un nuovo stadio utilizzando il mezzo del project financing coinvolgendo naturalmente i privati e il comune. Noi siamo assolutamente per fare uno stadio nuovo come abbiamo detto anche in campagna elettorale nel programma della Ruggeri ma uno stadio nuovo deve essere assolutamente comunale in mano al comune, gestito da comune, polifunzionale anche per altre società eccetera. Naturalmente la nostra politica è sempre stata quella del consumo zero del territorio per cui se si fa in un terreno comunale deve essere completamente abbattuta e riqualificata la superficie del Mancini con un verde pubblico, con piste ciclabili che collegano il nuovo parco Polverari, il centro storico eccetera. Per cui siamo assolutamente per uno stadio nuovo attingendo fondi europei, coni eccetera, quindi darsi da fare per trovare il modo per poterlo realizzare ma convertendo in verde l'area del Mancini.